buongiorno a tutti mi chiamo agnes futa mi occupo del vino a livello professionale dal 1998 è un' esperienza bellissima che mi ha segnato la vita che mi ha portato molte gioie molta crescita e molta esperienza un'esperienza trasversale che ti fa incontrare tante persone ti fa conoscere i mondi diversi che si incrociano che si che si contemplano nella loro specificità e questo questa consapevolezza mi ha portato al fatto di decidere di iniziare a fare una serie di video da condividere con voi con chi ha il piacere con chi è curioso con chi vuole scoprire una sensazione nuova una storia nuova e chi vuole passare dei momenti piacevoli ascoltando quello che ho da dire ecco questo è un momento buono per raccontare il vino secondo me perché lo hanno fatto in tanti lo hanno fatto molto bene ha fatto mario soldati ha fatto luigi veronelli ci sono stati tanti altri tante altre figure che hanno dato possibilità noi di capire qualcosa in più su questo meraviglioso tema che il vino allora l'italia adesso è un paese molto quotato per quello che riguarda la qualità del vino i nostri vini si trovano sulle tavole di tutto il mondo nelle carte dei più prestigiosi ristoranti e nelle cantine dei più importanti collezionisti di vino questo è un frutto di grande lavoro duro lavoro fatto di uomini e donne che come in tutte le cose richiede del tempo sacrificio conoscenza e così via io per introdurre per farci conoscere meglio ho preparato tre bottiglie che provengono dalla mia collezione privata che sono qui dietro a me e volevo dirvi che su ogni bottiglio che io parlerò è una bottiglia da me assaggiata degustata anche nel passato ma non ci sono problemi perché mi ricordo tutto quello che che bevo che percepisco e quindi vi parlerò sempre e solamente di quello che conosco per trasmettere al meglio la mia esperienza e la mia autenticità dell'esperienza allora facendo un po di un passo indietro per quello che riguarda la storia del vino italiano vedete la prima bottiglia bellissima bottiglia di travalini gattinara 1958 la bevi a dicembre dell'anno scorso provene da da una mia collezione e alla capienza di 0 72 perché all'epoca era quello rispetto ad oggi 0 75 è fatto di un vino fatto di spanna che sarebbe il vitigno nebbiolo chiamato così in gergo in quella parte del piemonte ecco allora questo è un vino che nasce da un territorio perché il territorio si sapeva era una cosa saputa poteva dare delle uve idonee ad essere imbutigliate quindi questo è un tipo di vino che ad oggi si trova ancora c'è c'è ancora il produttore ma testimonia la capacità di una fascia territoriale delle uve che possono dare una sequenza nel tempo temporale quindi possono invecchiare che non si trovano facilmente quindi questo è un vino autentico non perché il secondo non sia autentico il flacianello siamo nel 2009 qui con l'annata 2009 colli della toscana centrale 60.000 bottiglie prodotte quindi anni tecnologie avanti rispetto a qui alla spanna tra vallini che abbiamo tecnologie quelle francesi quindi di vinificazione tradizionale di legni grandi a volte pure stanchi però vi assicuro che vino non era stanco era una meraviglia con una freschezza ancora in fondo molto piacevole e per nulla stanco quindi poi si passa a questo tipo di vino che vuole mercato perché il mercato si è evoluto perché abbiamo bevuto già se pensate tra tra il 58 e 2009 sono 50 anni cinque decenni quindi una generazione che è passata quindi passiamo a un altro tipo di vino che deve essere buono deve essere perfetto e senza sbavature pur essendo un vino originale nulla ma non è un concetto diverso perché abbiamo già usufruito della ricchezza abbiamo fatto il boom italiano abbiamo fatto le nostre esperienze e ci siamo un po' anche tranquillizzati a livello economico e vogliamo i vini eleganti e vini che ci abbracciano vini che ci fanno veramente stare bene a tavola e poi arriviamo ai tempi nostri con l'ultima bottiglia questa qui qui ho scelto un produttore che stimo tantissimo e si trova nelle Marche nei castelli di Iesi e questo vino è fatto di uve verdicchio è un 2001 bevuto da poco questo per farvi capire quanto può dare testimonia anche questo questo vitigno a bacca bianca così importante in quella parte dell'Italia centrale quanto può dare quanto può portare all'invecchiamento anche questo tipo di vino quindi qui però abbiamo un concetto diverso perché qui abbiamo un produttore che diventa perché lui in primis in prima battuta faceva tutta un'altra cosa però possiede dei terreni territori e decide ad un momento di abbandonare una città grande che può essere una metropoli e si trasferisce in campagna a fare il vino quindi sono tre concetti diversi di vino e l'ultimo è quello che di cui ho parlato all'inizio che è un buon momento di parlare del vino perché ci sono tante persone che hanno deciso di tornare sulla terra sui vigneti appartenenti alla famiglia comprati, abbandonati, ripristinati, tutto quello che volete per avvicinarsi alla natura perché il vino è la natura e poi per produrre il vino concreto, autentico che spesso e volentieri rispecchia la personalità del produttore stesso è una relazione molto viscerale e molto stretta perché qui parliamo sempre nel caso dell'ultimo verdicchio fatto da Angelo Accadia parliamo dei numeri più bassi quindi produciamo qualcosa che ci permette di vivere a livello economico e diamoci la nostra anima, il nostro cuore in ogni bottiglia che facciamo ecco questi sono tre tipologie, tre vigni che hanno un po' caratterizzato la storia del vino in Italia quindi dopo guerra andiamo qui con Travallini sempre con le spanna Gattinara, grandissimo vino che è nato perché la natura voleva questo un'uva molto capace, autentica e si faceva quel vino lì storicamente già riconosciuto nel passato poi si passa a una perfezione, una decisa perfezione rappresentata da questo flaccianello che è un vino molto interessante è un vino che coinvolge a livello di gusto olfattivo ma anche le persone che non sono molto dentro nel mondo dei vini quindi apprezzano questo bicchiere perché non dà fastidio nessuna delle componenti che possono ricondurre alla freschezza quindi l'acidità del vino, la sapidità è tutto uno, quindi è molto equilibrato, armonico fa piacere prendere un bicchiere, riprenderne un altro e questo è una sicurezza quindi si trova in tutte le carte dei vini quasi tutte le carte sul territorio nazionale per passare a quell'ultimo di cui fanno parte tantissimi produttori che adesso abbiamo in Italia che sono piccoli vigneron, piccoli vignaioli che senza aiuto di nessuno se non con le proprie forze vanno avanti e propongono l'interpretazione del loro territorio in maniera autentica ricca di sacrificio e di molta dedizione coinvolgendo a volte tutti i suoi averi tutta la famiglia e così via e poi quello che stiamo assistendo ad oggi quindi stiamo assistendo a una grandissima produzione a volte può severare sovra produzione perché ogni anno abbiamo un vino diverso nuovo sul mercato su una zona magari a Montalcino c'era un certo numero di produttori nei anni 80 adesso siamo arrivati al doppio, quasi triplo quindi questo vi fa pensare che il mondo del vino rappresenta anche un business e in questo bisogna saper districarsi bene anche perché se poi desideriamo di avere una esperienza viscerale con il vino allora dobbiamo cercare bene e cercando bene si trova cercare bene quindi dobbiamo conoscere dobbiamo conoscere quello che cerchiamo e in questo modo noi potremo apprezzare potremo gustare e condividere con i nostri amici con le nostre persone che vogliamo bene anche questa esperienza di cui abbiamo acquisito conoscenza quindi i miei incontri volgono proprio a questo di incuriosire incuriosire anche gli astemmi ve lo dico subito perché il vino non è solamente alcol ma tanto altro e anche la storia la storia è un lavoro la storia di un lavoro la storia di un paese di una zona di un singolo vigneto e pensate solo a una cosa che quando il sole attraversa la buccia delle uve del grappolo già si crea un'identità del vino come in un uomo come in un essere umano noi abbiamo i codici ai quali siamo ancorati per tutta la vita la stessa cosa avviene con il vino il vino ha qualcosa ancora in particolare che già nasce con una identità precisa e questa identità la porterà per tutta la vita rimarrà sempre questa si trasformerà all'interno della bottiglia in modo graduale si spera idoneo per apprezzare sempre al meglio questo passaggio del tempo che può dare un vino di 10, 15, 20, 30, 40, 50 anni perché no? però è un qualcosa che nasce già formato spettando ai uomini agli esseri umani di accompagnare quel dono quella identità precisa nei migliori dei modi per poterlo apprezzare e farlo apprezzare anche le future generazioni ecco per questo video è tutto io vi ricordo il mio canale che è Agnes Futawan Curator se vi iscrivetevi fa molto piacere chi vuole iscriversi chi vuole scrivermi una mail questo è il mio indirizzo io vi ricordo